Lavoro con questa tutta colonna, quindi c'è la cinque linee principale, uno è la tutta colonna in mezzo, puoi sentire quello in mezzo, quando ho trovato quello in mezzo, fermo lì, peme composto, non su ditte, peme composto, così si peme, uno, due, peme, va giù uguale, da lì, peme, da qua a questo così è, peme, da lì, peme, poi soprattutto da qua a questo va dentro, vuole direzione da lì, peme un po', quando ho fatto questo fianco qua, abbiamo in mezzo, questo già fatto, poi fianco, sinistra, destra, un po' comodo, partì da quello, qua a questo, trovato in mezzo, peme, ok, qua a questo, sono i punti molto vicini alla colonna, qua a questo, perché questo punto è molto molto più importante, perché l'importante è il nostro sistema nervoso, radice partita lì, radice partita lì, per quello vuol dire importante, soprattutto dopo che lavoro con Parkinson, ok, e poi Alzheimer, questo stimola tutto questo parte, è molto efficace anche, molto importante, vuol dire Parkinson adesso, vuol dire molto difficile curare, ok, due modi, una accapuntura, una patica, tai chi, chi, con questi due, solo quei due tipi, per tutto il mondo, adesso così, per la medicina poco serve, serve per contro il dolore, non per diminuire quei fenomeni, ok, pure i sintomi, ma non la malattia, ah sì, giusto, per quello da lì, stimola, stimola, poi, più importante dove, in genere, lei è abbastanza, vuol dire, fisico preciso, tante gente, c'è la pelle, c'è la, vuol dire, un po' gasso, ok, un po' gasso, noi siamo così, spinge, molto più facile, scivola, non stimola la fascia, per quello ci bisogna, attraverso con quella pelle, gasso, e poi trovato, trovato, vuol dire, percepito, da questa parte, stimola un po', ok, stimola un po', ok, stimola un po', ok, stimola un po', è doloroso, ma bellissimo, ok, ah, poi, ok, zitti, eh, coraggio, ah, poi questo fianco fatto, poi, da quella, due c'è, in genere, due c'è, quel muscolo, toglierà un po', muscolo, fa lì, anche stimola, ah, anche stimola, così stimola, soprattutto, cento, cento, fianco qua, togge, sinistra, destra, poi ancora un po' di più, questo tipo, quello tipo, quello parte, fatto, abbiamo fatto, troviamo questo dietro, questo fascia, questo fascia dietro, quella fascia, questa parte fascia, ok, quella paleo, questo devi stimolare tanto, aiuto a qualificare tantissime malattie, ok, e poi tra questa fascia, fascia, con questa fascia, in mezzo, c'è questa fascia, c'è questa fascia, ok, lavoro. Invece, volete avanti, anche da qua, questo è in crucia, fascia, la nostra fascia fa così, poi scendi giù, da qua, questa fascia, poi sale quella fascia, quella, eh, questo è tutto fascia, ok, eh, 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 da questa fascia fatto, eh, questa parte fascia, ok, questa parte fascia, tutto fascia, tutto tocca fascia, ok, ma quello vuol dire, quando toccato tutto fascia, e quindi come la, fatto doccia dentro, eh, come fatto doccia dentro, e quindi leggerlo, se fosse come per noi, se fosse, dice come nuovo, quindi andato nuovo, perché dentro lavorato, ok, per quello vuol dire, molto più importante quello. Poi, attenzione, questo Fon Tzu, perché è importante, quello Fon Tzu, i mani, devi questo partire da 45 gradi, no, non così, quando così, quindi i punti di direzione non giusto, dopo scivola, 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 per quello ci bisogna dire, da qua, questo, così, e, tan, entra, 45 gradi, e entra, stimola, sentito? Ok, da qua, qua così, sentito, eh, eh, sinistra e destra uguale, eh, qua, fatto, za, così, poi, ultimo, da qua, questo, questo, ossa, questa parte fascia, quella fascia, importantissimo, quella fascia, devi, za, lavoro, eh, sentito? Ah, eh, quello fascia, ah, ah, hai sentito? Ah, eh, questo fascia, tutto, stimolato fascia, quindi, meno, lavoro, tanto, muscolo, stanco, è più efficace, più efficace, per quello, noi, siamo, ci bisogno di Kung Fu, quindi, patica, lavoro, la nostra fascia, quando, nostra fascia, potere, e poi, tocca al lato, molto più efficace, perché, sintonizzati, risonanza, ok? Ok, chiaro? Adesso, facciamo questa parte, lavoro, questa parte, molto più importante, ok? Eh, questa parte è più bella, più piacevole, perché, quindi, io ho del più spazio, eh, lavoro questo, visto, eh, eh, visto, eh, tutti di voi già fatto bene, hm, eh, mio occhio vedo, 80% di voi già fatto bene, solo, ancora può migliorare, ah, 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 quindi, eh, quando facciamo di questo Kung Fu, quella braccia, meglio, 45 gradi, così, il peso sempre giusto, se così, molto meno forza, vuol dire meno usare il nostro peso, invece questo, così, molto più facile usare il nostro peso, usare il nostro peso, meno stanco il muscolo, più efficace, ok? Quando l'inizio è uguale, sempre come l'è la sua muscolo, muscolo, l'inizio è sempre muscolo, poi il muscolo fatto, uguale a questo, da qua a questo, lavoro, fascia, soprattutto stimola fascia, stimola fascia e quindi, vuol dire forte, ok? Ok, fascia, stimola fascia, qua così, poi stimola fascia, molto più importante, visto tanto di voi, ancora fermo il posto, invece c'è bisogno di lavoro con il posto, perché dopo che lavoro non solo mezz'ora, ogni tanto di noi lavoro quattro ore, cinque ore, e quindi vuol dire c'è bisogno, usa posto, usa posto, meno stanco, meno stanco, ok? E poi da qua a questo, lavoro, vuol dire durante tocca muscolo, tocca muscolo, trovato fascia, zac, stimola un po', poi trovato fascia, stimola un po', sempre quello, e poi questo, si chiama quanto, ok? Questo è uguale, da qua a questo, quanto a fianco, quello parte tantissimo fascia, zac, fascia, ok? Trovare fascia stimola, trovato fascia stimola, trovato fascia stimola, fascia stimola, zac, fascia, faccia, da qua a questo, c'è bisogno di misurarla, così, trovato fascia, importante trova fascia, e poi coccola, e poi, poi da coccola, così, ok, fate voi.